Ciao a tutti sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video di domenica di solito faccio un resoconto di quello che è successo durante la settimana e in questo video che reputo molto importante voglio mostrarvi alcuni dati che ci fanno capire, ci potrebbero far capire che siamo diretti verso una vera e propria ripresa per adesso il mercato sta registrando percentuali positive, vediamo Bitcoin a 38.000 dollari, vediamo Ethereum a 2.600, registriamo percentuali positive anche con altre altcoins e piano piano pare che il mercato si stia riprendendo, ripeto, per vari motivi che in questo video vi elenco quindi per capire se è un buon momento per acquistare oppure è un buon momento per vendere tra le profitti perché potrebbe essere il solito rimbalzo del gatto morto, il solito fake out seguitemi fino alla fine perché vi spiego cosa ne penso io e cosa potrebbe accadere secondo alcuni dati onchain che sono molto importanti prima di iniziare però come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace per supportarmi e supportare il mio lavoro sapete benissimo quanto impegno ci vuole per portare contenuti ogni giorno da parte vostra è gratis e per me è fondamentale e se non siete iscritti per rimanere aggiornati 24 ore su 24 su tutto quello che succede nel mondo cripto in maniera semplice e dettagliata iscrivetevi al mio canale per continuare a seguirmi detto questo però adesso davvero iniziamo subito perché come al solito ci sono tante cose importanti di cui parlare per quanto riguarda i prezzi già vi ho mostrato che il mercato si sta riprendendo fortunatamente ormai sono due giorni che registriamo percentuali positive però attenzione voglio mostrarvi subito un dato interessante che sarebbe il bitcoin fear and greed index finalmente stiamo salendo anche in questo caso siamo al numero 29 e siamo in paura ieri eravamo al numero 24 la settimana scorsa al numero 11 e questo significa che eravamo in estrema paura per adesso il numero 29 è positivo perché le persone stanno capendo che il mercato prima o poi si riprenderà anche se io non sono molto contento che il fear and greed index salga perché quando è basso il prezzo di bitcoin è ai minimi e per questo sono molto contento di acquistare soprattutto nei progetti in cui credo quindi per chi mi segue sa benissimo che in questi giorni ho fatto gli acquisti pesanti a luglio quando il prezzo di bitcoin era bassissimo ho fatto pochi acquisti e poi i prezzi sono esplosi quindi per adesso ho deciso di acquistare più in maniera più pesante per trarre poi si spera dei profitti in un futuro non troppo lontano però ovviamente non sono consigli finanziari perché io non sono un consulente tutto quello che faccio non dovete assolutamente copiarlo detto questo adesso però continuiamo perché voglio leggervi alcune notizie molto interessanti per quanto riguarda bitcoin tutto il mondo cripto per capire dove siamo diretti perché come dico spesso quando bitcoin reagisce bene tutte le altre altcoin performano bene e infatti se diamo un'occhiata all'altcoin season index in questi giorni eravamo diretti verso la bitcoin season eravamo al numero 34 invece oggi siamo al numero 37 perché ci stiamo dirigendo verso l'altcoin season e questo può essere positivo perché le persone non si affidano solo a bitcoin cioè non investono i loro soldi solo in bitcoin perché è meno volatile ed è più capitalizzato ovviamente ma decidono anche di speculare di investire i loro soldi in altre altcoins che possono essere sol xrp può essere cardano oppure anche shiba inu eccetera quindi reputo questa cosa abbastanza positiva questo potrebbe significare una ripresa del mercato comunque l'articolo che voglio leggervi alcune informazioni l'ho trovato su criptovaluta.it che è un sito che seguo spesso e vi invito anche a leggere alcuni articoli a riguardo perché sono fatti molto molto bene in questo articolo vengono riassunti alcuni punti importantissimi per capire quello che sta succedendo primo punto interessante è quello del parlamentare belga che percepirà stipendio in BTC perché ha fatto questo? perché lui crede che la BCE cioè la banca centrale europea dovrebbe essere più aperta a posizioni sulle criptovalute quindi ha deciso di prendere lo stipendio in BTC come una sorta di protesta in poche parole poi un'altra notizia interessante è che Putin pare sia dalla parte di BTC ovviamente questa notizia può essere eccessiva però inizialmente già vi ho spiegato che la Russia voleva bannare le cripto soprattutto il mining perché per chi non lo sapesse la Russia si trova al terzo posto per il mining di BTC al primo posto ci sono gli Stati Uniti al secondo posto il Kazakistan e poi la Russia hanno detto che i miners si inquinano invece per adesso si sta dicendo che Putin si è dichiarato pro Bitcoin e pro mining in poche parole questa può essere una notizia molto positiva perché in questi giorni abbiamo visto tanta tanta food nel mercato cioè fear, uncertainty and doubt soprattutto dopo le dichiarazioni che sono avvenute in America per quanto riguarda la regolamentazione delle criptovalute io già vi ho detto che secondo me è molto positivo vedere le cripto regolamentate perché si possono attrarre investitori istituzionali che posseggono tanto capitale e quindi vedendo una regolamentazione sono più fiduciosi e investono i loro soldi che sono tanti detto in maniera semplice poi andiamo avanti perché c'è un'altra notizia molto importante dall'America perché in Arizona una senatrice repubblicana ha avanzato la proposta di rendere Bitcoin valuta avente corso legale nello Stato già abbiamo visto Bitcoin valuta legale in El Salvador e sappiamo quello che sta succedendo El Salvador sta diventando un modellino diciamo e anche questo potrebbe accadere nell'Arizona già vi ho spiegato in passato che l'America sta facendo di tutto per adottare le cripto e questo passaggio di Bitcoin a valuta legale nell'Arizona sarebbe una notizia molto molto bullish sempre in questo articolo poi viene menzionata la Fed giustamente che ha un potere decisionale molto importante a marzo forse ci sarà il rialzo dei tassi di interesse già vi ho spiegato che questo potrebbe portare il prezzo di Bitcoin e tutte le altre criptovalute a scendere ovviamente questo non per forza può accadere perché già sappiamo adesso che questo accadrà e può essere che il mercato già stia scontando queste notizie negative che verranno sono supposizioni ragazzi quindi fate attenzione detto questo però adesso continuiamo perché ci sono tante cose importanti di cui parlare voglio mostrarvi qualche grafico per farvi capire on chain che sta succedendo e fortunatamente sono tutte notizie bullish che ci possono far capire che a breve ci sarà una bella ripresa sì ci siamo ripresi da 33 mila dollari per adesso però bisogna anche aspettare la riapertura del mercato che avverrà lunedì cioè domani come già vi ho detto in questi mesi siamo in questa falling wedge soprattutto dal 27 gennaio stiamo fortunatamente tornando sopra questa resistenza e potremo raggiungere addirittura i 40 mila dollari se questo accadrà vedremo i prezzi riprendersi anche di moltissime altcoin e ne siamo contenti per quanto riguarda invece il grafico di Bitcoin sul mensile stiamo registrando comunque sempre un andamento bullish non siamo in una fase bearish già ve l'ho spiegato questo perché stiamo registrando minimi più alti dei minimi precedenti e massimi più alti dei massimi precedenti se questo minimo qui scende sotto il minimo precedente potremmo essere una fase bearish ovviamente sono sempre supposizioni bisogna vedere poi nel concreto che succede ora passiamo un po' a dei dati importanti perché questo grafico mostra il negative funding rates cioè mostra le persone che vanno long e le persone che vanno short in questo momento ci troviamo in questa fascia qui rossa che è molto molto ampia quando ci troviamo in questa fase rossa di solito poi il prezzo dopo risale nel grafico vediamo la zona rossa a luglio 2021 poi vediamo a ottobre 2021 e adesso siamo a gennaio 2022 e vedremo che succede quando usciremo da questa zona rossa e secondo questo grafico il prezzo dovrebbe salire poi andiamo avanti perché c'è quest'altro grafico molto importante che mostra gli acquisti delle balene e sembra un livello molto simile a quello di settembre poi abbiamo visto benissimo cosa è successo la linea grigia rappresenta il prezzo di bitcoin quindi secondo questo grafico e questi acquisti delle balene adesso il prezzo dovrebbe risalire altra notizia super bullish l'ultimo grafico che volevo mostrarvi è questo qui che mostra i bitcoin che sono dentro e fuori gli exchange quando sono dentro gli exchange di solito il prezzo di bitcoin scende perché tendono le balene oppure le persone normali tendono a vendere bitcoin per trarre profitti e quindi il prezzo scende per adesso ci troviamo fuori da questa linea quindi siamo in outflows i bitcoin sono fuori e il prezzo infatti sta salendo altra notizia altro grafico super bullish ah prima di continuare ragazzi vi invito anche a seguirmi su instagram mi trovate come stefano castiello attenzione il mio profilo è privato il mio profilo pubblico è finto una persona mi ha copiato le foto e contatta i miei iscritti per farli investire in city scam assolutamente non sono io inviatemi la richiesta e vi accetto non appena posso per ora io ho 11.000 followers e 7 foto e soprattutto nell'username non c'è nessun numero però nessuna lettera in meno e vi aggiorno sempre ragazzi su instagram su tutto quello che succede nel mondo cripto eccetera anche qualche pettegolezzo tra youtubers come vedete qui quindi se siete curiosi di leggere questa cosa seguitemi su instagram detto questo ragazzi stiamo crescendo sempre anche su thorum sono contentissimo che ieri mi avete contattato in tanti su instagram per ricevere il link perché per chi non lo sapesse tramite thorum c'è possibilità di ricevere 7.5 xtm gratis semplicemente iscrivendovi dal mio link e una volta che poi raggiungete i 100 power ups nelle missioni ricevete missioni per guadagnare xtm gratis come ho detto ieri per ricevere questo link contattatemi in privato ah e prima di lasciarci sempre vi invito anche ad iscrivervi a young platform perché c'è possibilità tramite il mio link di ricevere 10 euro bonus e soprattutto ragazzi adesso c'è anche possibilità di impostare gli acquisti ricorrenti con satis pay e in questo modo non pagate commissioni quindi secondo me conviene tantissimo iscriversi a young platform soprattutto se siete neofiti perché è un exchange davvero semplicissimo da utilizzare e soprattutto permette di investire nelle maggiori crypto come bitcoin, ethereum eccetera detto questo ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto se così è stato lasciate un bel mi piace per supportarmi e se non siete iscritti per rimanere aggiornati ripeto 24 ore su 24 su tutto quello che pubblico iscrivetevi al canale e seguitemi ovviamente anche su instagram io spero tanto che il mercato continui in questo modo con queste percentuali positive dobbiamo aspettare soprattutto l'apertura dei mercati americani e asiatici di domani e vediamo i prezzi come reagiscono grazie mille ancora a tutti alla prossima avventura ciao ciao